Barbara Civiero, lei di cosa si occupa signora? Intanto parliamo della sua lista che rinascita a Bassanese. Io mi occupo, lavoro nella scuola. Che incarico ha? È collaboratore scolastico. Quindi lei è una di quelle che guarda tutto quello che funziona o non funziona all'interno? Esatto, sì. Cerco di mantenere specialmente dove sono le cose che funzionino. E secondo lei cos'è che non funziona? Penso nella sua scuola ma poi dopo... Ma un po' in tutte le scuole dove sono andata c'è sempre il problema della manutenzione. Ma proprio le piccole cose, cambiare una porta, sistemare ad esempio, dare il colore alle scuole. Lo devono fare i genitori, lo devono fare sempre qualcuno, non si trova mai chi lo deve fare. Poi magari si spendono soldi per le scuole nuove e poi non si fanno le manutenzioni. Io parlo per la scuola dove sono io, ad esempio basta cambiare le porte. Mettere i controsoffitti e cambiare il pavimento della palestra. La scuola è nuova. Basta poco magari, ma nessuno ci pensa perché dobbiamo sempre fare le cose nuove, le cose grandi, le cose... Quindi all'interno di un'amministrazione lei potrebbe portare una voce veramente rivoluzionaria? Perché io penso che si costruisce molto... Io sono per il fare. E anche per il riadattare, mi pare. Sì, 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 sì. In questo periodo di crisi penso che riscoprire tutte le cose che noi abbiamo a Bassano messe un po' così, magari con poche risorse, rimetterle in funzione, secondo me sarebbe molto valido il discorso. Potrebbe creare anche un volano di lavoro perché non sono grandi opere, però potrebbero andare da lavorare a tante piccole... C'erano tante piccole imprese. Secondo me sì, però dopo non lo so perché io non ci sono mai stata nelle amministrazioni, non ci sono mai stata in comune. Però vedo che se la gente ha la volontà, le cose vengono fatte. Ma cercare di non mandare sempre a fare agli altri, lo deve sempre fare qualcun altro. Prendersi delle responsabilità, qualcuno che dica bene, oggi io faccio questo, domani io faccio quello, ma io faccio, non tu fai, farai, faremo. Per il fare. Per il fare. Auguri. Grazie.